Grazie al GPS un 55enne Bassanese è riuscito a ripercorrere le tappe del proprio iPhone. Era uscito da una visita medica in ospedale, si era accorto di aver dimenticato il cellulare all'interno di un bagno. Una volta tornato il cellulare era sparito. Aiutato dai figli è riuscito a rintracciare il segnale e a vedere che il cellulare era uscito dall'ospedale. Aveva preso l'autobus e si trovava esattamente in una banchina ferroviaria in attesa di prendere un treno in mano di chissà chi. A quel punto sono stati allertati gli agenti del commissariato di Bassano che hanno fatto chiamare il proprietario al proprio numero. In stazione ha risposto un macedone di 77 anni in procinto di salire sul treno per Cassola dove risiede. Denunciato per furto, l'uomo ha detto che non sapeva di chi fosse e che avrebbe cercato il proprietario per restituirlo.